Dai yeah! Blocchiamo tutta la Genova Nizza Questi già sentono odore di spiaggia Sgancia la grana Minchiarella quanti siamo En français Grazie! Minchiano in italiano, scusate Un applausonji Boni, ho capito, ti applausi, grazie Scusa il microfono, t'ho ficcato una randellata delle mie Siete grandi Ma che ve lo dico a fare! Che bella community Amici di River of Sound Puntata numero 17 Che figata, inizia il weekend E per me weekend significa stare in vostra compagnia Significa River of Sound Significa musica Significa Skipper Go! Dai yeah! Auguri a tutte le donne Donne che sono una parte fondamentale Non solo della programmazione Ma anche proprio della community Su sei donatori Patreon Cinque sono donne Cinque donne che hanno preso E mi hanno offerto una volta al mese Un cappuccino e una brioche Per sostenere questo canale su Patreon Grazie! Skipper Go! E' la trasmissione che da inizio al weekend Io vi porto insieme a me Nel processo di creazione delle mie playlist Buon ascolto a tutti Rose Villen insieme a Madame Si intitola Hattori Anzo Diciamo che come sempre nei pezzi di Madame c'è un gusto Sentite com'è lineare anche il modo in cui sono stati arrangiati gli archi Guerra non voglio fare la guerra Spera tu Ah sti accenti Per me skip ragazzi Allora attenzione Blochiamo tutta la Genova Nizza qua Il pezzo è sicuramente quanto di meglio possiamo sentire nel mainstream italiano Un pezzo che si eleva dalla mediocrità Ma dai anche no Mahmoud e Angele Sempre Jamais Che s'avvicina l'estate raga? Questi già sentono odore di spiaggia Oh Carlo! Scusate se vi accolgo ragazzi Ma siete i miei community preferiti Minchiarella quanti siamo Grazie! Schippiamo Questo pezzo Inizia a donare ciccio invece di fare il furbo te Punta 10 Sgancia la grana Disgraziato Nuovo pezzo di Ariana Grande We can't be friends Wait for your love State sentendo i suoni? Devo farvi leggere la chat ragazzi perché siete grandi Che bella community Questa c'ha una voce raga che porca miseria Chat che dite vi piace questo pezzo? Can't be friends Questo pezzo merita un riascolto Per quanto mi riguarda io dico che è GO! Sapete che non sempre porto a casa questo tipo di pezzo Veramente turbo pop Brava Ariana Grande Una plasongi Acqua passata di Capo Plaza Per quest'ora siamo vuoti Non mi provocate Ciao raga Skip Popolari Rove Sento aria di skip pure qua Ma dobbiamo capire che cacchio esce ogni settimana nel mainstream Attenzione alla storia strappalacrime eh Sii vicino la alla locale Con i passegini e le mamme Oh c'è qualche cosa di nuovo Dai bravo Rove ci hai provato e tanto la risposta è sempre skip C'è rispetto a Shakerando questa qua è Imagine Dopo sta cazzata o ti abboni o parte il ban Buona big mama che te strilli Eh Nick Cave and Bad Seats Ecco adesso attacca con la musica da alto locato Ti devo dire No il pezzo è comunque indubbiamente un pezzo alla Nick Cave Se io sono a casa o in viaggio mi capita un pezzo così ma sarei un folle a non dire vai in sala d'attesa pertanto Io dico che go 100.000 Nick Cave voglio e non un Baby Gang Tra l'altro questo pezzo sta in piedi eh a livello di struttura a livello di suoni Two door cinema club i miei pupilli Happy customers Comfortably living Copy and paste the outcome Listen to the radio Mi ricorda un pezzo degli R.E.M. All the way to Reno All the way to Reno Grazie a Carlo per essersi iscritto a Patreon Grazie mille Intanto questo pezzo dei two door cinema club per me è skip E' uscito il nuovo singolo dei Justice incognito Andiamo a sentire va De botto Che cazzo Minchiarella E' la madonna Senti sentite il basso che roba Ma che ve lo dico a fare Per l'amor del cielo questo è go Dopo one night all night Dopo generator presente nella playlist di marzo di River of Sound Mi sa che si replicherà anche ad aprile Un livello altissimo Applausone A 40 donatori Patreon Noi ce ne andiamo dritti a tre trasmissioni alla settimana Vi dirò una cosa Boni ho capito Ed applausi grazie e basta Ho anche partorito in terzo format Ce l'ho qua E vi garantisco che sarà una figata Y-E-B I-F-O-N I-F-O-N Angus e Julia Stone Angus Stone per me è lassù eh Ma voi ve lo immaginate che vi apro la domenica mattina così su mixtape eh? Ma questa volta sono perfettamente d'accordo con voi e dico go Goodbye Day A Toys Orchestra Mi ricordo un po' the importance of being idol degli oasis Insomma dai è proprio quella roba li eh Questo pezzo per me è skip L'ultima canzone sono i bleachers questa è Che faccio? GOOOOO Dale ragazzi un abbraccio fortissimo ci vediamo domenica mixtape ciao